Quest'anno casca di martedì. Difatti il compleanno lo festeggio venerdì prossimo, si andrà a mangiare un pizzino da qualche parte, ragazzi. Si fa la cena tutto pesce. Beh, regalo, non ti preoccupare, ho fatto una lista. Se no si prende una asana fitta. Su, per la pezzone. E ci si fa anche a po' d'anno. Il panettone lo porto io, c'è uno ancora buono, l'ho aperto nel 91. Oh, ragazzi, c'è la botta. Mi sa se c'è qualcuno di voi che sa com'è nata la musica elettronica. Ve lo posso raccontare io. C'era una volta circa 12 miliardi di anni fa.